L'anno 2000 ci corre dietro dall'eternità, spunta l'orizzonte e piano piano ci raggiungerà. Il tempo sembra lungo ma in un batter d'occhio ci siamo già, siamo nati e ridi colpo abbiamo una certezza. Ma perché? Ma perché? Non lo so. Nell'anno 2000 un'altra pagina si volterà e l'era di nuovo mondo arriva un'altra società. I nonni se ne andranno con le loro mentalità, addio contadino la tua storia finisce qua. Ma perché? Ma perché? Non lo so. Un altro mondo un'altra storia da raccontare d'ora in poi, gli ottimisti sono in tanti pessimisti più che mai. Il robot sono un olo a guatto, invasioni e modernità, il progresso è sempre più veloce e non si ferma mai. Per chi fitte volessi nevolmente prima o poi, nel 2000 cambieranno tante cose anche per noi. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Non lo so. Ma perché? Non lo so. Un altro mondo un altro mondo un'altra storia da raccontare ci sarà. L'Europa sarà unita, l'atmosfera si riscalderà, la conquista delle stelle per domani già si sa. Il polmone della vita soffre adesso più che mai, precipitevolissime volmente e prima o poi, nel 2000 cambieranno tante cose anche per noi. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Non lo so. L'anno 2000 si avvicina e la realtà, la storia che ha fatto storia nella storia è questa qua. Il futuro condannato dal progresso che non ha pietà, l'anno 2000 sarà la fine dell'umanità. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Non lo so. Ma perché? Ma perché? Non lo so.